Gamma App. Radio Zigbee, identificare se un modulo è già associato ad una rete Zigbee. 1. Cablare il modulo. 2. Dare alimentazione. All'accensione il LED del modulo è spento, ciò significa che il modulo dispone già di un identificatore di rete Zigbee. All'accensione il LED del modulo è acceso e fisso, ciò significa che i moduli non hanno un identificatore di rete Zigbee. Quando acceso, modulo senza rete Zigbee. Modulo con rete Zigbee. Modulo con rete Zigbee.